Ascolti TV, venerdì 16 dicembre 2022, Giorgia e Amadeus Sanremo Giovani nella serata di ieri, venerdì 16 dicembre 2022, su Rai 1 Sanremo Giovani, in onda dallealle, ha conquistato 000 spettatori pari al percento di share. Su canale 5 con l'aiuto del cielo, ha incollato davanti al video 000 spettatori con uno share del percento. Su Rai 2 SWAT. Arriva a 000 spettatori, per cento. Su Italia 1 Crossfire bloccati nell'incubo, in prima tv ha raccolto 000 spettatori, per cento. Su Rai 3 ora tocca a noi Storia di Pio La Torre è seguito da 000 spettatori con il percento. Su Rete 4 quarto grado totalizza un A. M. D. 000 spettatori, per cento. Sulla 7 Propaganda Live Best of Sigla. 000 spettatori pari al percento. Su TV 8 Masterchef segna. 000 spettatori, per cento. Sul 9 l'ultima puntata di Fratelli di Crozza, è vista da. 000 spettatori, per cento. Access Prime Time Su.